Grazie. Grazie. E' finito. Tutto qui. Buono. Dai, ritiro. Ti fa? Si. 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 No, ecco l'ha ripreso, l'ha ripreso. Si. No, ecco l'ha ripreso. Si, però... Tu va? Si. Si, però... Tu va? Si. 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 Se lo possiamo rifare, sarebbe meglio. Così c'è un secondo. Per fare un'altra video. Si. 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 Si ferma e fa la cosa. Cioè lui si muove? Si, fa un movimento. Tu vuoi riprendere lui? Si. Io voglio riprendere lui che si muove, normale, senza anti-escillazione. Si. Dopodiché si ferma, mette l'anti-escillazione e comincia a riprendere. Si. Si, quello normalmente. Si, un movimento normale. Un movimento senza anti-escillazione e poi un movimento con anti-escillo. D'accordo. Ah, il fatto trefano uno senza e uno con. Si. C'è tanto... Si. No, senza e con. Lo fa normalmente. Perché lui si muove, poi si ferma, spinge quello. Io lo riprendo dall'inizio. Non vuoi vedere l'oscillazione senza l'anti-escillo? Ah, magari, magari. Io te lo faccio. Con e senza. Ok. Con e senza. Con e senza. Si. Con e senza. Con e senza. Con e senza. Ok. Ma tue, se vuole. Lace, ma ma. Non, ma. Aperpetra le oies, carri. C'era un balance. C'est bon ? Non, non, je vais couper moi. Si. ma non, c'è l'antibalon c'è l'antibalon tu ti ha un antibalon? un antibalon? ah! un antibalon? ah, zut! questo è la senso il antibalon è l'immel no allora, e qua possiamo fare qualcosa? facciamo una prova vediamo cosa succede si A meno di due piedi. come va Jean-Louis? va bene? non salut, lavorare di forza si vuoi essere in forza basta from Porto of Dublin ok è arrivato è arrivato bucari, come hai compagnie? grazie 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 ero non è il giorno per il video ciao 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 è il l'antibalone è ok non è l'antibalone non è l'antibalone non è l'antibalone io mettono l'antibalone è il tuo il secondo e turn screen up to zoom no 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 per esempio fa un tubino questo è un 204 and then and then and then e e e Grazie. 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 Sì, sì. E il bai. Non ci stai prendendo gusto ora. A presto. Grazie. Ok, questo è senza antipendolato. Adesso mi sa che l'ha inserito. Grazie.